Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro delle figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli a loro scelta. Allora il Signore disse, il mio spirito non resterà sempre nell'uomo perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. C'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli, sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo, Il Signore disse, cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato e con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo perché sono pentito di averli fatti, ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la discendenza di Noè. Noè era uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. Noè generò tre figli, Sem, Cam e Japheth. Ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco, essa era corrotta, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Allora Dio disse a Noè, E' venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di cipresso, dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco come devi farla. L'arca avrà 300 cubiti di lunghezza, 50 di larghezza e 30 di altezza. Farai dell'arca un tetto e a un cubito più sopra la terminerai. Da un lato metterai la porta dell'arca, la farai a piani, inferiore, medio e superiore. Ecco, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque, sulla terra per distruggere sotto il cielo ogni carne in cui c'è soffio di vita. Quanto è sulla terra perirà, ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive di ogni carne, introdurrai nell'arca due di ogni specie per conservarli in vita con te, siano maschio e femmina. Degli uccelli, secondo la loro specie, del bestiame, secondo la propria specie, di tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie, due di ognuna verranno con te per essere conservati in vita. Quanto a te, prenditi ogni sorta di cibo da mangiare, fanne provvista, sarà di nutrimento per te e per loro. Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato. Così fece. Il Signore disse a Noè, Entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinnanzi a me in questa generazione. Di ogni animale puro prendine con te sette paia, il maschio e la sua femmina, degli animali che non sono puri, un paio, il maschio e la sua femmina. Anche degli uccelli del cielo, sette paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza su tutta la terra, perché tra sette giorni farò piovere sulla terra, per quaranta giorni e quaranta notti cancellerò dalla terra ogni essere che ho fatto. Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato. Noè aveva seicento anni quando venne il diluvio, cioè le acque sulla terra. Noè entrò nell'arca e con lui i suoi figli, sua moglie e le mogli dei suoi figli, per sottrarsi alle acque del diluvio. Degli animali puri e di quelli impuri, degli uccelli e di tutti gli esseri che strisciano sul suolo un maschio e una femmina, entrarono a due e a due, nell'arca, come Dio aveva comandato a Noè. Dopo sette giorni, le acque del diluvio furono sopra la terra. Nell'anno seicentesimo della vita di Noè, nel settimo mese, il diciassette del mese, in quello stesso giorno, erupero tutte le sorgenti del grande abisso e le cateratte del cielo si aprirono. Cadde la pioggia sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti. In quello stesso giorno entrarono nell'arca a Noè con i figli Sem, Cam e Japhette, la moglie di Noè, le tre mogli dei suoi figli, essi e tutti i viventi, secondo la loro specie, e tutto il bestiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo la loro specie, tutti i volatili, secondo la loro specie, tutti gli uccelli, tutti gli esseri alati. Vennero dunque a Noè, nell'arca, due a due, di ogni carne in cui c'è il soffio di vita. Quelli che venivano, maschio e femmina, ad ogni carne, entrarono come gli aveva comandato Dio. Il Signore chiuse la porta dietro di lui. Il diluvio durò sulla terra quaranta giorni. Le acque crebbero e sollevarono l'arca che si innalzò sulla terra. Le acque furono travolgenti e crebbero molto sopra la terra e l'arca galleggiava sulle acque. Le acque furono sempre più travolgenti sopra la terra e coprirono tutti i monti più alti che sono sotto tutto il cielo. Le acque superarono in altezza di quindici cubiti i monti che avevano ricoperto. Perì ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame, fiere, tutti gli esseri che brulicano sulla terra, e tutti gli uomini, ogni essere che ha un alito di vita nelle narici, cioè quanto era sulla terra asciutta, morì. Così fu cancellato ogni essere che era sulla terra, dagli uomini agli animali domestici, ai rettili, agli uccelli del cielo. Essi furono cancellati dalla terra e rimase solo Noè e chi stava con lui nell'arca. Le acque furono travolgenti sopra la terra centocinquanta giorni. Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici che erano con lui nell'arca. Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono. Le fonti dell'abisso e le cateratte del cielo furono chiuse. Fu trattenuta la pioggia dal cielo. Le acque andarono via via ritirandosi dalla terra e calarono dopo centocinquanta giorni. Nel settimo mese, il diciassette del mese, l'arca si posò sui monti dell'Ararath. Le acque andarono via via diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le cime dei monti. Trascorsi quaranta giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell'arca e fece uscire un corvo. Esso uscì, andando e tornando, finché si prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi fece uscire una colomba per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo, ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell'arca, perché c'era ancora l'acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell'arca. Attese altri sette giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca e la colomba tornò a lui sul far della sera. Ecco, essa aveva nel becco una tenera foglia di olivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra, aspettò altri sette giorni, poi lasciò andare la colomba. Essa non tornò più da lui. L'anno 601 della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra. Noè tolse la copertura dell'arca ed ecco la superficie del suolo era asciutta. Nel secondo mese, il 27 del mese, tutta la terra si era prosciugata. Dio ordinò a Noè, Noè esci dall'arca tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Tutti gli animali d'ogni carne che hai con te, uccelli, bestiame, tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli uscire con te perché possano diffondersi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa. Noè uscì con i figli, la moglie e le mogli dei figli. Tutti i viventi e tutto il bestiame, tutti gli uccelli e tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo le loro specie uscirono dall'arca. Allora Noè edificò un altare al Signore, prese ogni sorta di animali puri e di uccelli puri e offrì olocausti sull'altare. Il Signore ne odorò il profumo gradito e disse in cuor suo non maledirò più il suolo a causa dell'uomo perché ogni intento del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza, né colpirò più ogni essere vivente come ho fatto, finché durerà la terra, seme emesse caldo e freddo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra, il timore e il terrore di voi sia in tutti gli animali della terra e in tutti gli uccelli del cielo, quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono dati in vostro potere. Ogni essere che striscia e a vita vi servirà di cibo. Vi do tutto questo, come già le verdi erbe, soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Del sangue vostro, ossia della vostra vita, io vi domanderò conto, ne domanderò conto a ogni essere vivente, e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. Chi sparge il sangue dell'uomo dall'uomo, il suo sangue sarà sparso, perché a immagine di Dio è stato fatto l'uomo e voi siate fecondi e moltiplicatevi, siate numerosi sulla terra e dominatela. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui, quanto a me, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame, animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra, io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Dio disse, questo è il segno dell'alleanza, che io pongo tra me e voi, e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future, pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi, ogni essere che vive in ogni carne e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne, l'arco sarà sulle nubi e io guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra. Dio disse a Noè, questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra. I figli di Noè, che uscirono dall'arca, furono Sem, Cam e Japheth. Cam è il padre di Canaan. Questi tre sono i figli di Noè e da questi fu popolata tutta la terra. Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Avendo bevuto il vino, si ubracò e si denudò all'interno della sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Japheth presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e camminando a ritroso coprirono la nudità del loro padre. Avendo tenuto la faccia rivolta indietro, non videro la nudità del loro padre. Quando Noè si fu risvegliato dall'ebbrezza, seppe di quanto gli aveva fatto il figlio minore. Allora disse, sia maledetto Canaan, schiavo degli schiavi, sarà per i suoi fratelli. E aggiunse, benedetto il Signore, Dio di Sem, Canaan sia il suo schiavo. Dio di lati Japheth ed egli dimori nelle tende di Sem. Canaan sia il suo schiavo. Noè visse dopo il diluvio 350 anni. L'intera vita di Noè fu di 950 anni. Poi morì. Questa è la discendenza dei figli di Noè, Sem, Cam e Japheth, ai quali nacquero figli dopo il diluvio. I figli di Japheth, Gomer, Magog, Madai, Ivan, Tubal, Mesec e Tirass. I figli di Gomer, Ashkenaz, Rifat, Togarmà, I figli di Ivan, Iavan, Elisa, Tarsis, Kittim, Idodaim. Da costoro derivarono le genti disperse per le isole, nei loro territori, ciascuna secondo la propria lingua e secondo le loro famiglie nelle rispettive nazioni. I figli di Cam, Etiopia, Egitto, Putte, Canaan, i figli di Etiopia, Seba, Avila, Sabta, Ramah, i Sabteca, i figli di Ramah, Saba e Dedan. Etiopia generò Nimrod, costui cominciò a essere potente sulla terra. Egli era valente nella caccia davanti al Signore, perciò si dice come Nimrod, valente cacciatore davanti al Signore. L'inizio del suo regno fu Babele, Uruk, Akkad e Kal, nella regione di Sinar. Da quella terra si portò ad Assur e costruì Ninive, Rehkobot-Ir, Kalach e Resentra, Ninive e Kalach. Quella è la grande città. Egitto generò quelli di Lud, Anam, Lahab, Naftuch, Patros, Kasluch e Kaftor, da dove uscirono i Filistei. Canaan generò Sidone, suo primogenito, e Khet, e Gebuseo, e Lamorreo, e il Gergeseo, e l'Eveo, e l'Archeo, e il Sineo, e l'Arvadeo, e il Semareo, e il Camateo. In seguito si dispersero le famiglie dei Cananei. Il confine dei Cananei andava da Sidone, in direzione di Gerar, fino a Gaza, poi in direzione di Sodoma, Gomorra, Adma, e Seboim, fino all'Esa. Questi furono i figli di Cam, secondo le loro famiglie, le loro lingue, nei loro territori, e nelle rispettive nazioni. Anche a Sem, fratello maggiore di Japheth, capostipite di tutti, i figli di Eber, nacque una discendenza. I figli di Sem, Elam, Assur, Arpaxad, Lud e Aram. I figli di Aram, Us, Ul, Geter e Mas. Arpaxad generò Selach, e Selach generò Eber. A Eber nacquero due figli, uno si chiamò Peleg, perché ai suoi tempi fu divisa la terra. Il fratello si chiamò Ioktan. Ioktan generò Almodad, Selef, Azarmavet, Ierach, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Saba, Ofir, Avila e Jobab. Tutti questi furono i figli di Ioktan. La loro sede era sulle montagne dell'Oriente, da Mesa in direzione di Sefar. Questi furono i figli di Sem, secondo le loro famiglie, le loro lingue, nei loro territori, secondo le rispettive nazioni. Queste furono le famiglie dei figli di Noè, secondo le loro genealogie, nelle rispettive nazioni. Da costoro si dispersero le nazioni sulla terra, dopo il diluvio. Grazie.